cari amici eccoci qui per la seconda parte dei video odierni del mio canale youtube Nicola De Lucia a cui vi invito ad iscrivervi ricordo che è tutto a gratis, free, libero senza pagare niente quando vedete i miei video non c'è nessuno spot pubblicitario che interrompe video quindi né io guadagno qualcosa né voi dovete pagare qualcosa quindi siamo pari patta. A parte questo in questo primo degli ultimi tre video di oggi parliamo di UEFA Champions League siamo credo nell'ultimo turno di qualificazione gare che si svolgeranno tra oggi e domani e ritorno poi il 29 il 30 partiamo da stasera dove anzi vedo anche domani tutte le gare alle 21 questa sera avremo ovviamente settimana prossima sfide di ritorno ovviamente con giorni invertiti chi gioca questa settimana al martedì giocherà la prossima mercoledì chi gioca questa settimana mercoledì la prossima giocherà a martedì. Nel prossimo video parleremo della della retribution questa passione questa stable che è il WWI che sta creando non pochi problemi ma non aggiungo altro perché poi dirò nel video giusto due cose senza allungarne più di tanto quindi ripetiamo gare di andata di Champions League tra Snowdarp e Oxalonico Maccabi Tel Aviv, Salisburgo, Slavia Praga, Mijiciland, Gend, Dinamokir, Molde, Ferenk, Varos, Olimpia, Kos, Kondra, Omonia. Grazie a voi tutti buona serata ci vediamo al prossimo video di oggi ciao a tutti e hasta la vista buona ciao 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 ciao